Continua il countdown a Pesaro Capitale della Cultura e anche il volontariato Scalda i Motori verso il 2024. Lo fa con il progetto Visibilia delle CSV Marche che avanza costruendo tavoli di lavoro e immergendosi nella cultura pesarese in un percorso emozionale. Quello che venerdì si è diramato dai musei civici al Museo Nazionale Rossini fino all'auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per presentare i progetti di volontariato allestiti. Abbiamo concluso un'importante collaborazione con la Fondazione Pescheria che segue l'organizzazione di Pesaro 2024 perché tutta la questione che riguarda i volontari sarà affidata in parte al Comune di Pesaro e in parte al Centro Servizi per il Volontariato con il progetto VolontariX. Noi avremo questa piattaforma attraverso la quale metteremo insieme gli eventi, quindi le richieste di volontari e i tanti volontari che ci auguriamo, arrivino non solo da Pesaro ma da tutta Italia e anche dall'estero, che decideranno di dare la loro disponibilità a partecipare come volontari agli eventi. Questo era l'accordo che abbiamo iniziato con Pesaro 2024 e oltre questo avremo tre contenitori molto importanti che presenteremo proprio oggi in questa seconda tappa di Visibilia, che sono i tre contenitori di cui si occuperà direttamente il Centro Servizi per il Volontariato proprio grazie al percorso fatto in questi mesi con Visibilia. Quindi ci saranno tre progetti importanti che sono circolazioni, slow tourism e uno che a me piace tantissimo che è 50 per 50. I 50 comuni nelle 50 settimane di 2024 ogni città, ogni comune della nostra provincia vedrà degli eventi in collaborazione con le realtà di volontariato e i comuni stessi. Oggi ad esempio come per la Capità della Cultura 2024 ci vuole un'organizzazione molto capillare e intelligente ma insieme tutto viene mosso dal cuore, dalla passione ed è anche proprio nella natura del volontariato oggi che non è più improvvisato ma è strutturato quello di essere preparati e competenti ma nello stesso tempo motivati e per essere motivati ci vuole il cuore. Quindi diciamo sia l'evento che la Capità della Cultura sono sulla stessa linea, quindi la passione con l'impegno e l'organizzazione. Quindi questa è la grande sfida e noi ci siamo e ci fa piacere mettere anche come protagonisti il volontariato perché ci tengo a dire che nel nostro territorio c'è un movimento in cui il terzo settore e il volontariato sono protagonisti, quindi l'amministrazione comunale li coinvolge in coprogettazioni e coprogrammazioni dei servizi perché riteniamo che sia un valore quello del coinvolgimento diretto del mondo del volontariato. Questa combistione con Pesaro 2024, Capità della Cultura, è una cosa che ci fa estremamente piacere per due motivi. Primo perché noi come Fondazione Cassa di Risparmio partecipiamo attivamente a questo grande e significativo evento per la nostra città di Pesaro ma come la nostra città di Pesaro in maniera intelligente e lungimirante ha saputo pensare per tutto il territorio provinciale e come Fondazione siamo intervenuti sia per iniziative sparse in tutta la provincia sia adesso ci concentreremo, ci concentriamo per il 2024 su proprio la città di Pesaro. D'altra parte ci interessa molto questo tema della cultura perché come è scritto nel manifesto che magari poi potete far vedere volontariato è, voce è il verbo essere, cultura e questo credo che sia un messaggio estremamente importante perché la cultura ha una dimensione ovviamente specialistica, colta, in cui abbiamo l'atto dell'artista, l'atto del pensatore, l'atto del poeta ma tutto questo ha senso nella misura in cui è il punto di solidificazione di una vita di una vita che è la vita di un popolo, la vita di un popolo che in qualche modo è tale se è capace di solidarietà.